a partire dal primo luglio 2024 passerà da... Alessia. Oh, no, guardate che ha fatto, ma guardate che ha fatto. Dai, è pubblico. Tornate adesso da lavoro, ha fatto cate tutto, qua, datemi un attimo tempo di sistemare. Vabbè, bentornati in questo nuovissimo video, oggi faremo un video un po' diverso dal solito, parliamo di qualcosa che sta facendo molto discutere ultimamente, ovvero l'aumento del canone Telepass che, pensate pensate, a partire dal primo luglio 2024 passerà da 1,83€ a 3,90€ al mese per un aumento totale del 113%, punto esclamativo, esclamativo, esclamativo. Che ne pensi tu? È una vergogna. Su, dice Alessia, è una vergogna. Alessia, si è incazzata, Telepass, vergognate proprio, va bene. Allora, io sono uno di quelli che ha sempre sempre odiato il fatto che in Italia ancora si debbano pagare i caselli in autostrada, considerate che in quasi tutta Europa le autostrade o sono gratuite oppure hanno una vignetta dal prezzo praticamente ridicolo, che potete fare giornaliera, settimanale e mensile, pensate che per i viaggi che facciamo noi, per andare da Roma a diciamo Bolzano paghiamo circa una quarantina d'euro, quindi andate e ritorno 80€, mentre una vignetta in Svizzera per un anno intero costa solamente 40€, detto tutto. Diciamo che la scelta di Telepass si commenta proprio da sola, però ho deciso comunque di farci un video, visto che potete dare disdetta gratuitamente e immediatamente entro il 30 giugno. E visto che ultimamente mi era puntato tutti gli impegni e cose da fare, oggi mi sono ricordato che dovevo da disdetta a Telepass, finalmente ce l'ho fatta, quindi se siete un po' sbadati come me, grazie a sto video magari vi tornero in mente che eravate segnati anche voi, però non sto a dire io da disdetta a Telepass, fate come vi pare, se vi piace Telepass rimanete con Telepass, ok? Bella. Prima di iniziare col video però vi ricordo che da pochi giorni è online il nostro sito web dove potete trovare un sacco di articoli, guida di viaggio, itinerari scaricabili, quindi se vi piace il mondo delle due ruote, il mondo dei viaggi, dategli un'occhiata, link è in descrizione www.rockets.it e soprattutto se volete supportarci con i nostri progetti, mi raccomando è gratis di iscrivervi al canale, c'è il tastino qua sotto, visto che più della metà di voi purtroppo guarda i video ma non si iscrive al canale, è gratis. Allora adesso computer alla mano, andiamo ad un'occhiata ed iniziamo con la mail di Telepass che dice a partire dal prossimo primo luglio intendiamo attuare alcune modifiche alla nostra offerta, in particolare il canone del servizio Telepass Family verrà portato a 3,90 euro iva inclusa su base mensile. La relativa proposta è modificata in particolare dal significativo incremento di oneri, costi e investimenti per Telepass al sempre più alto livello qualitativo dei servizi pagamenti erogati dal riposizionamento di mercato. Oneri, costi e investimenti per Telepass. E io pago! Dicono inoltre in una successiva mail, per questo motivo a partire dal prossimo primo luglio 2024 potrai usufruire di tutti i servizi a pagamento compresi nella nostra offerta più ampia denominata Telepass Plus. Quindi loro dicono di includiamo lo Skivas, i parcheggi eccetera nel nuovo piano di abbonamento ma io che desta roba non me ne faccio niente, uso soltanto il Telepass per passare al casello, anche no. Ora che sto senza Telepass e che ad agosto torneremo a viaggiare per il nostro Road to, spoiler, andiamo insieme a valutare le due alternative che ci sono al momento che sono Munei Go e Unipol Move. Allora attenzione non sono sponsorizzato assolutamente da queste due aziende quindi ci tenevo a dirvelo. Munei è la fintech italiana leader nei servizi e soluzioni tecnologiche personalizzate di pagamento mobilità bla bla è controllata da Enel e Intesa San Paolo attraverso le società Enel X e Easy Bank. Allora sul loro sito ci propongono un abbonamento con sei mesi di canone gratis dopodiché sarà di un euro e cinquanta al mese. L'attivazione la consegna 5 euro e include il telepedaggio in tutta Italia, due targhe associabili a ogni dispositivo, più di 380 parcheggi convenzionati, la debito settimanale di pedaggi e canoni su carta di credito debito, l'app gratuita e altri servizi aggiuntivi. Questo per quanto riguarda il piano con l'abbonamento mentre se invece siete come me che l'autostrada la prendete una volta ogni tanto magari vi conviene di più il pay per use che pagate soltanto 2 euro e 20 nei mesi in cui utilizziamo il servizio quindi nei mesi in cui passiamo dentro a un casello o utilizziamo le altre cose che sono nella loro app. L'attivazione e la consegna sono di 10 euro e includono praticamente tutti i servizi che trovate anche con l'abbonamento. Il telepedaggio Muneco è l'unico a cui associo una carta di credito o debito, visa o mastercard per i pagamenti online per pagare i servizi utilizzati con il dispositivo. La debito dei servizi è settimanale, dopo tre giorni dal transito di un casello lo troviamo nella nostra lista movimenti sulla nostra app. Ogni venerdì i servizi utilizzati da lunedì alla domenica della settimana prima verranno addebitati sulla carta da noi associata e ogni mese riceveremo via mail la fattura con tutte le spese che abbiamo fatto del mese precedente. Vabbè tutto molto chiaro e semplice da capire. Adesso invece passiamo all'altro Unipol Move. Unipol Move è un dispositivo di telepedaggio creato e gestito dalla compagnia italiana Unipol. Vabbè se capiva. Siamo sul loro sito vediamo che cosa dicono. La tabella qui sotto ci riporta che anche per questo qui abbiamo due piani quindi Unipol Move base quindi in abbonamento e il paper use. Ah vedi? Unipol Move base e passi sempre al casello in un tag. Proprio detto alla milanese in un tag scritto qua. È gratis per i primi 12 mesi di Canon e poi soltanto un euro e 50 al mese per il primo dispositivo e un euro per il secondo. L'attivazione e la consegna sono gratuite. In questo caso il pagamento è mensile quindi non settimanale come l'altro. Secondo dispositivo gratis. Ok. Mentre qui invece abbiamo il paper use che paghiamo 0,50 centesimi al giorno di utilizzo fino alle 23,59 dello stesso giorno. L'attivazione e la consegna sono di 5 euro. Il pagamento è all'utilizzo quindi presumo che i soldi te li tolgono il giorno stesso credo. Non lo so. Andiamo invece nella sezione domande andiamo a vedere che cosa ci dicono. Quante targhe possa associare al contratto Unipol Move? Puoi associare una targa ad ogni dispositivo presente nel tuo contratto telepedaggio. Inoltre hai la flessibilità di cambiarla quando vuoi sia tramite l'area riservata su unipolmove.it che tramite l'app Unipolmove. A differenza di quell'altro potete mettergli soltanto una targa poi quando vi servete cambiata direttamente dall'app. A meno che non utilizzate due veicoli in contemporanea allora in quel caso vi conviene farvi spedire un altro dispositivo. Poi sotto dove è valido il dispositivo Unipolmove? Ecco qui ci dice che praticamente non è ancora valido per la tratta Messina-Palermo e Messina-Catania e per il tunnel Schio-Valdagno. La versione in abbonamento la possiamo fare direttamente sul sito cliccando qui acquista ora mentre invece la versione paper use dovete regarvi in agenzia e farla direttamente lì. Una cosa che mi mancherà tantissimo di telepass sarà lo sconto moto del 30% che comuneco purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni sembra che non esista mentre invece con Unipolmove c'è la convenzione sconto moto del 30% sui pedaggi autostradali effettuati con la propria moto associata al dispositivo. Se considerate tutta la spesa dei caselli che facciamo ogni volta il 30% è un gran bel risparmio. Buono molto buono comunque sia tutte le info che vi ho detto in questo video potrebbero cambiare velocemente visto che qua ogni giorno si inventano un'offerta nuova quindi non fate riferimento troppo a questo video ma piuttosto andato a vedere i loro siti ufficiali. Io un'idea di cosa sceglierò più o meno già me la sono fatta però prima di scegliere tra i due servizi voglio un attimo sentire il vostro parere e leggere i vostri commenti qui sotto almeno capisco. Aspetta c'è sta le sciuccia con la saluta. Seguitemi su Instagram, seguitemi su Instagram, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e visitate il nostro sito. Già io l'ho detto, ora è tardi siamo tornati tutti e due adesso da lavoro ancora dobbiamo cucinare e dobbiamo ancora mangiare. Io ho fame. Ecco lei c'ha fame. Quindi grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima avventura. Regà, agosto sta per arrivare quindi continuate a seguirci perché quest'anno poi vedete. Bella!